Verniciatura Parrino SRL Verniciatura Parrino vanta un'esperienza di oltre 30 anni nella verniciatura di macchine industriali e carpenteria metali. La struttura aziendale è organizzata ed efficiente, capace di venire incontro ad ogni necessità ed è specializzata in applicazione di verniciatura tradizionale, liquida, liscia e goffrato, poliuretatici e possidici, martellati, verniciatura a polveri termoindurenti poliuretaniche e possidiche, raggrinzanti ad applicazione elettrostatica. Per info, telefono 0381 341984.